Ciao a tutti, mi chiamo Martina e sono contenta e orgogliosa di essere la coach della squadra gialla della terza edizione del programma musicale Stars and Songs. Che dire, ho delle ragazze che variano molto l'intervità, ma nonostante questo le vedo molto motivate, con voglia di fare e di mettersi un gioco anche. E chissà, magari di portare a casa un buon punteggio e chissà mai anche una vittoria, spero. Intanto spero di far passare delle belle serate, spero delle ragazze di far passare una bella serata e intanto ve le presento. Ciao! Allora, sono Anna, ho 14 anni e faccio canto da quando mi vengo un uomo e ho deciso di partecipare a questo programma per mettermi un po' in gioco per conoscere persone nuove e canto perché mi rilassa, oppure riesco a sfogarmi cantando e perché mi piace. Ciao, mi chiamo Beatrice, ho 13 anni, canto fin da quando avevo 5 anni, frequento l'Accademia del Canto da 4 anni e ho scelto di fare questo programma perché l'anno scorso mi sono divertita tantissimo e voglio anche quest'anno mettermi alle prova e dimostrare quanto valgo. Ciao a tutti, sono Caterina, ho 15 anni e frequento l'Accademia da più o meno 3 anni. Il canto è una delle mie più grandi passioni e attraverso questo riesco ad esprimere me stessa e a far uscire tutte le emozioni che ho dentro. Ho deciso di partecipare nuovamente a questo programma perché l'esperienza che ho vissuto l'anno scorso mi è piaciuta moltissimo e mi piace fare nuove conoscenze e far sentire a tutti la mia musica. Ciao a tutti, sono Gaia, ho 17 anni e ho deciso di partecipare a questo programma per esprimere le mie emozioni. Come tutti, mi mostro nell'armadio che mi impediscono di esprimermi a pieno e soltanto la voce mostra le mie sfumature. Ciao, sono Nicola, ho 9 anni, vivo da Arminiano, frequento l'Accademia da 7 mesi e ho deciso di partecipare a Stasong perché volevo provare a mettermi in gioco e a rinostrare la mia musica.